Maria Vittoria, Marco, Matteo. Sono tre amici che si sono dati appuntamento in piazza Risorgimento a Sassuolo per fare l'abbonamento del Sassuolo Calcio che la prossima stagione disputerà il campionato di Serie A. Finito il periodo del diritto di prelazione, da oggi è iniziata la seconda fase, quella aperta a tutti. È il primo anno, sì. Tu cosa andrai a vedere oltre a accompagnarlo? Tutte, assolutamente tutte. Vale la pena sostenere questi ragazzi che hanno fatto l'impresa? Un'impresa, assolutamente sì, sosteniamoli e merita tutto. Merita anche l'attesa, speriamo di fare in fretta, però ci sta, ci sta. Sì, è il primo anno, praticamente gli anni scorsi ormai sono dieci anni che compro il biglietto prima di ogni partita. Quest'anno faccio l'abbonamento perché questi ragazzi meritano il nostro sostegno. Cioè, spero di fare l'abbonamento, vi sta la fila. Per me è il primo anno, sì. Sassuolo in Serie A, quale partita andrai sicuramente a vedere? Sassuolo Milan, sono milanista. Sassuolo Juventus, perché io sono una juventina. Quindi imperdibile. Certo. Signora Andrea, lei è qui per fare l'abbonamento in fila? Stamattina molto presto. A che ora è venuto? 5.20. Non ero tranquillo, sapevo che avrei fatto della fila. Ai tifosi nero-verdi piace molto l'idea del Mappei Stadium. Il Sassuolo, infatti, disputerà il prossimo campionato a Reggio Emilia e non più a Modena. Ma lei cosa ne dice di questo trasferimento a Reggio Emilia? Benissimo. Le piace l'idea? Sì, perché a me non piace i modenesi. O mi sono trattato al campo sportivo e il minimo che potevamo fare è andare a Reggio. No, in parte sono contento, perché sicuramente lo stadio è più bello.